CibBad Chic, ti stavi pettinando, ti ho vista, anch'io mi stavo pensando a posto prima. CibBad Chic, bentornati. Buongiorno Gabriella. Buongiorno. La nostra community di ricette gustosissime, bellissime, ma a poco prezzo. Riusciamo a rimanere dentro i 3 euro anche oggi a persona? Sì, 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 riusciamo. 3 euro a persona anche di più, anche meno. Anche meno, che è la nostra mission. Allora, andremo a vedere oggi degli short food, come li ho definiti io, per non chiamarli sempre finger food, poi vedrete perché, che sono delle idee per il buffet di Capodanno. Siamo vicini al Capodanno 2017-2018, abbiamo visto nella puntata precedente i bueri della Gabri per un'idea sempre natalizia, anche di Cadò, e invece andiamo alla notte del Cenone, del Veglione, dove si possono realizzare questi piatti meravigliosi, a pochissimo prezzo e sono tre. Tre, sì. Che sono? Sono dei bicchierini di crema di ceci con gamberi, delle palline di polenta e parmigiano e dei bicchierini di crema di blu di capra con mirtilli. Ho già fame. Andiamo a vedere gli ingredienti? Vediamo gli ingredienti. Pronti via. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.